E' arrivato a conclusione nei giorni scorsi il concorso oleario Oro Verde della Locride, dedicato a tutti i produttori locali di olio extravergine di oliva e avviato in occasione della scorsa campagna olearia su iniziativa del frantoio Oro Verde di Marina di Gioiosa Ionica, con la collaborazione dell'Arsac di Locri, dell'Aratro di Gerace e del Cra di Rende. Iniziativa unica del suo genere ad essere realizzata nel comprensorio, porre l'accento sulla qualità del prodotto attraverso la conoscenza dei processi agronomici e biotecnologici che la determinano, stimolare gli olivicoltori e frantoiani locali al miglioramento della qualità degli oli extravergine di oliva e ancora a promuovere la valorizzazione degli aspetti salutistici e nutrizionali degli oli, informando e orientando il consumatore finale verso una scelta consapevole. Valorizzare la filiera olivicola olearia locale e le figure professionali operanti all'interno di essa sono stati gli obiettivi fondamentalmente perseguiti dal progetto. La manifestazione ha permesso ad ogni produttore che ne ha preso parte di conoscere le caratteristiche chimiche, fisiche e sensoriali del proprio olio, evidenziandone i punti di forza e le eventuali carenze, determinando così il miglioramento oggettivo della qualità del prodotto e la crescita dell'intero comparto produttivo locale. Allora, questa sera noi ci troviamo a Marina di Gioiosa Ionica per premiare i migliori oli che hanno partecipato al concorso oleario Orio Verde della Locride. Sono stati prelevati circa 70 campioni di olio. Questi 70 campioni di olio sono stati sottoposti ad analisi chimico-fisica. Quelli che sono risultati extravergine sono state effettuate anche le analisi sensoriali, il panel test. Questa sera qui a Marina di Gioiosa Ionica effettueremo la premiazione dei migliori 7 oli extravergine. Il comune di Marina di Gioiosa Ionica con grande gioia e intensa partecipazione ha sponsorizzato, aiutato, sostenuto, patroginato l'iniziativa del primo concorso oleario Orio Verde della Locride nel quale verrà premiato il migliori extravergine d'oliva della nostra terra. In questa iniziativa che ha coinvolto a vari enti, tra cui una importante presenza commerciale e economica di Marina di Gioiosa Ionica, c'è l'essenza di quello che come amministrazione vogliamo fare, cioè lo sviluppo dell'attività agricola. Questo nostro territorio non può prescindere dall'agricoltura se vuole veramente uno sviluppo serio, sostenibile ed integrale e noi come comune siamo stati veramente fieri ed orgogliosi di patroginare questa iniziativa e di essere presenti questa sera. L'iniziativa è stata resa possibile grazie soprattutto alla stretta sinergia e collaborazione insauratasi tra il Frantoio Roverde, l'Arsac di Locri, l'Aratro di Gerace e il Craoli di Rende, partner che si sono adoperati per l'eccellente risultato raggiunto. Con il contributo della provincia di Reggio Calabria, settore agricoltura, al patrocinio del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, dopo delicate e dedicate fasi di valutazione e analisi, si è approdate alla fase conclusiva del concorso, ovvero ad un seminario divulgativo svoltosi presso la sala consigliare Egidio Gennaro del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, occasione in cui si è provveduto a consegnare le schede di valutazione analitica a tutti i partecipanti e ad effettuare la premiazione dei migliori oli in gara.